Signore e signori, buonasera, la storia che sto per raccontarvi è fatta di sfide impossibili e di uomini caparvi in grado di realizzare i loro sogni. In questa storia esemplare, capacità, competenze e dedizione si intrecciano con una volontà, una passione e un coraggio che, consentitemelo, sfiorano l'audacia. Ora provate ad ascoltare il mio consiglio, allacciate le cinture di sicurezza e sistematevi comodamente e soprattutto, mi raccomando, mettete in moto la vostra attenzione. Grazie a tutti. Grazie. 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 Non è Catania quando dice che siamo sempre in ritardo, che non facciamo mai in tempo, forza, forza, liberate il campo, tutti ai loro posti, ok? C'è anche il campo, motore! Partito! Convention Europe Car, 25 anni prima! Azione! A voi tutti un cordiale benvenuto a questo evento nato per celebrare insieme i primi 25 anni di presenza della Europe Car in Italia. Sono qui presenti in sala tutti gli attori protagonisti che fanno parte del mondo Europe Car. Ve li presento. Abbiamo scelto i teatri di Posa Studios, luogo di cultura e del cinema. Per ripercorrere in chiave cinematografica la storia del nostro primo quarto di secolo. Il tutto in un concentrato di emozioni. Percorriamo insieme questi primi 25 anni. Grazie. Allora, come mi ha insegnato Letizia Casta, corri Gregorio che c'è un ramaro verde che ti corre dietro. E a questo punto per smorzare il giallo di questa cravatta, me lo metto e termino così. Vorrei volare velocemente su quegli anni di pionerismo e di sviluppo, gli anni di super service people che nel più puro stile nippo americano finirono anche in un disco. Eccolo! È un reperto! Il disco della Europe Car. Ecco, se lo portate via, grazie ragazzi, molto gentile. Facciamo, vediamo un po', l'espressione di uno che ha una donna nuda davanti. No, che imbarazzo! Poi c'è il mio marito in sala, senti. Mi ricordo il mio ufficio, era uno stanzino 150x200, un tavolino in condominio con la francatrice, passaggio obbligatorio per la tua letta. Era questo un fatto molto importante, determinante per la mia esperienza che avrei avuto nel futuro nel campo dei bisogni dei dipendenti. Che rotta, capitano. Potenza al massimo. Mettiamo in moto il futuro. Come abbiamo visto dal filmato, l'astronave è già in viaggio. In viaggio verso il futuro, verso un altro ciclo di 25 anni. Adesso ho l'onore e il privilegio di porgere a John de Mousseau questa platea che rappresenta la organizzazione più performante nel panorama europeo Eurocar e nel settore dell'autonoleggio a livello italiano. A voi tutti un applauso di congratulazioni e buon viaggio nel futuro. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti